Eccoci con coach Massimo Bernardi dopo questa bellissima vittoria nel derby contro Cesena, anche terminata con un punteggio roboante 85-59. Era una partita meglio Cesena, però comunque dopo alla fine il punteggio dice una cosa ben precisa. Questa era una partita molto importante, la prima partita del campionato in questa situazione di grande difficoltà di tutto il paese, quindi ci tenevamo molto a fare bene. Come prima cosa vorrei dedicare questa partita ai nostri tifosi, tutti i nostri tifosi e ai ragazzi della Curva che sono venuti sabato al palazzetto a darci la carica, a incitarci. Sono stati molto carini, quindi la dedica di questa partita è per loro. Hai ragione, abbiamo iniziato al contrario di quello che avevamo preparato la partita. Cesena ha iniziato bene e noi ci siamo adeguati ai loro ritmi, abbiamo camminato in campo e siamo andati sotto giustamente 11-0. Poi devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato veramente bene, hanno messo in campo tanta energia, tanta intensità. Siamo riusciti a stringere in difesa, andare in contropiede e l'emblema della partita è l'ultimo quarto e credo sia finito 26-5, una roba del genere. Non vuole dire una cosa inesatta, comunque una cosa del genere. Facendo commettere a Cesena credo per 4-5 volte in frazione dei 24 secondi. Questo è stato proprio veramente una bella cosa, i ragazzi sono stati molto bravi, ecco questa è la strada che noi dobbiamo perseguire, quella della difesa, del sacrificio, dell'intensità, dell'energia che ci permette di giocare un basket molto più consono alle nostre caratteristiche. Massimo una considerazione su due cose, avete iniziato il secondo tempo col fatto che eravate quasi certi che Eugenio comunque insomma col suo problema probabilmente non sarebbe più potuto rientrare in campo o magari forse hai preferito tu, non rischiarlo dopo ce lo dirai. Sta di fatto che nel finale abbiamo visto i ragazzi giovani che oltre a Crow, oltre a Broglia, e oltre a Simoncelli si sono presi il campo nel senso che Ambrosin piuttosto che Filippo Rossi Moffa ha messo delle triple importanti, insomma hanno dato un contributo molto importante. E l'altra cosa è la panchina perché di questi 85 punti più di 50 sono arrivati dalla panchina. Sì, prima quello che dicevo mi riferivo anche a loro. Sai che non mi piace mai prendere delle scuse ma oggi dovevamo purtroppo rinunciare due giocatori molto importanti per la squadra come Francesco che ancora non è pronto per scendere in campo e abbiamo dovuto rinunciare a Eugenio, aveva un fastidio, adesso valuterà lo staff medico in settimana di cosa si tratta però assolutamente non era il caso di rischiarlo. Quindi sono stati bravi i ragazzi giovani, molto bravi, hanno messo intensità, hanno messo pressione sulla palla mi riferisco a Filippo Rossi, a Moffa e a Bob Imladenov. Sono stati molto bravi, hanno messo intensità, abbiamo difeso molto bene, in attacco abbiamo fatto delle belle cose e anche Ambrosin che ha sempre 20 anni anche lui. Sono stati molto bravi, intensi, si sono fatti trovare pronti, hanno realizzato dei canestri decisivi ma appunto il applauso va a tutta la squadra per come si è comportata da quel 0-11 in poi. Veramente bravi, quella è la strada che dobbiamo prendere, tenere. Un'ultima cosa di conclusione, come avevate iniziato, per l'importanza che aveva questa prima di campionato appunto per questo derby e per il discorso che hai fatto anche prima dei tifosi insomma una vittoria del genere penso sia una bella rampa di lancio sempre rimanendo umili come dici sempre tu però direi che è una bella rampa di lancio per iniziare il campionato, una bella iniziare di fiducia. Sì, è così perché la vita ti presenta sempre delle sorprese e non puoi mai rilassarti. Abbiamo due giocatori in meno, probabilmente la settimana dovremo fare anche questa settimana i salti mortali ma per fortuna abbiamo dei ragazzi giovani che ci danno molta intensità e dobbiamo lavorare giorno per giorno per migliorare la squadra soprattutto per mettere in pratica quella che è la nostra mentalità ossia partire subito col coltello fra denti, dobbiamo fare questo. Poi la cosa fondamentale è veramente essere parte di un progetto, lo siamo ma particolarmente importante in questo periodo giocare anche per i nostri tifosi veramente dare loro una soddisfazione, un sorriso, essere orgogliosi di noi, di quello che facciamo in campo quindi questo deve essere uno stimolo in più, assolutamente non un peso ma una motivazione in più per dare gioia a noi stessi e ai tifosi che se lo meritano tanto.